Nomadelfia News 9 dicembre 2017 Venerdì 1 dicembre i ragazzi delle medie hanno visitato una cristalleria Sabato 2 è stato presentato in sala Don Zeno Turoldo Vivo Il maestro Alberto Villa a Nomadelfia Venerdì 1 dicembre noi ragazzi delle medie siamo andati a visitare una cristalleria a Colle Valdelsa Colle Vilca è un'azienda nata dalla fusione di due storiche cristallerie italiane e vanta oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'arte, della tradizione artigiana e della lavorazione del cristallo al piombo oltre il 24% Il vetro è il risultato finale di un insieme di elementi che con precisione vengono dosati, fusi e lavorati Si fa come un dolce dove gli elementi fondamentali sono la sabbia per i tre quarti il carbonato di sodio e di potassio e per fare il cristallo l'aggiunta del 24% di ossido di piombo che fa sì che la lavorazione che si crea forma un cristallo naturale e aumenta tantissimo l'indice di rifrazione e la stabilità cioè dura di più nel tempo perché diventa meno solubile Queste sostanze vengono messe dal fonditore nella padella un catino di terracotta ad una temperatura di 1600 gradi per tutta la notte Al mattino molto presto, tre squadre di artigiani lavorano con destrezza e abilità al cristallo dandogli forme uniche e meravigliose Abbiamo visto la lavorazione in stampi di bottiglie per whisky e la lavorazione artigianale di piccoli oggetti fatta da un maestro vetraio che, con sapienti interventi, ha trasformato una massa in forma incandescente in autentici oggetti d'arte Il processo di raffreddamento, poi, deve essere molto lento attraverso un nastro trasportatore in un forno che tempera e raffredda e dal quale l'oggetto, quando fuoriesce, viene controllato e, alle volte, ha bisogno di ulteriori passaggi per essere rifinito Abbiamo visto la rifinitura dei calici che vengono tagliati, passati nella mole e lucidati a caldo Gli oggetti, infine, vengono portati a Empoli per essere lucidati con acidi e riportati in azienda per il confezionamento e la vendita Siamo rimasti affascinati dal lavoro artistico, dalle numerose forme che prende il cristallo dalla sapiente lavorazione di uomini appassionati Sabato 2 dicembre Questo progetto abbiamo denominato Liturgia della riflessione Il progetto Turoldo Vivo intende smuovere le coscienze attraverso le parole e le immagini regalateci da questo incredibile uomo In questo contesto, la poesia di Turoldo assume il ruolo di vettore lungo il quale si muovono codici e messaggi espressivi multisfaccettati così da rendere il lascito socio-culturale di padre David un eterno presente, mutevole e profondo impedendo che i limiti spazio-temporali della sua vita mortale trasformino il centenario della nascita in una celebrazione del personaggio Per noi Nomadelfia ha sempre avuto una parte speciale Per noi Nomadelfia è stata un'immagine, una suggestione ma è adesso una promessa e un motivo di speranza In Nomadelfia crediamo, lo abbiamo fatto all'inizio attraverso le parole e la testimonianza di padre David oggi ancora di più perché siamo presenti e abbiamo constatato che cos'è veramente un'occasione di vita vera direi, autentica Sono venuti a trovarci un centinaio di amici milanesi di CL e tra loro il maestro Alberto Villa che ha inventato un metodo per apprendere in modo divertente i segreti della matematica, della grammatica e del tempo ha fatto uno spettacolo divertente, istruttivo di più di un'ora in cui ha coinvolto tutti, grandi e piccoli i bambini dopo che parlavano dicevano uffa ma sta grammatica e allora cosa ho fatto i bambini? ho detto io non mi sono fatto io, chissà come sono fatto mi è venuta pure la febbre ho parlato direttamente con uno che si chiama Gesù anche voi ci parlate con lui? ci parlate o no? si ah ecco lui ha detto come faccio qui questa storia ai bambini che preparano bene la lezione grammatica e allora cosa è successo? che mentre avevo 40 di febbre per cui la febbre serve ero a letto così a un certo punto ho preso in mano un piccolo registratore e ho detto ma io la grammatica gliela canterei e mi sono messo a fare una canzone mamma ma non l'avevo mai fatta eh bene dopo otto giorni ho fatto otto canzoni sono rientrato in classe ho detto bambini e tutti che la cantavano vai giù ti sento molto più vai giù normale che ne sprecciano che ne sprecciano il caso di te è tu hai trovato di sabbia e tu hai trovato di sabbia Grazie a tutti. Non può succedere lì va mai a te Brava più stai Brava più stai Quindi dica che cos'è, che sarà di me, che ha creato tutto a chi, chi sarà, vorrei sapere, chi è. Lui è tra di noi, è abbraccia tutto il mondo, lui è tra di noi, è abbraccia infinito. Senti che tuo cuore cerca un amore grande, lui è qui con te, si guardano, lui è qui con te, si guardano. Grazie.